Il diabete sta diventando una delle patologie più importanti per quanto riguarda l'aspetto della salute negli ultimi anni, non solo in Italia, ma in tutto il mondo occidentale. Proprio di diabete oggi parleremo con il dottor Roberto Norgiolini, che è il responsabile del servizio diabetologia del distretto Alto Tevere. Intanto, come è strutturato un po' questo servizio? Questo servizio, che è dedicato alla cura e all'assistenza delle persone con diabete, è un servizio ambulatoriale. Si occupa della presa in carico e della gestione nel lungo termine, trattandosi di malattia cronica delle persone con diabete. Strutturato con una sede principale a città di Castello, appunto presso l'ospedale e con dei accessi che si svolgono in periferia, tra Umberti e prevalentemente San Giustino. Si accede al servizio con richiesta del medico di famiglia, l'assistito si prenota a Cuppe e in un ragionevole tempo di attesa, a un momento contenuto siamo intorno a circa un mese di attesa, si accede al servizio per essere presi in carico e per essere inseriti in un percorso di cura e di assistenza. Ricordiamo che appunto il servizio è disposto ai poliambulatori alla pianoterra dell'ospedale di Città di Castello, che ultimamente sono in qualche modo stati rivisti. Quali sono le novità appunto strutturali e anche per quanto riguarda il percorso assistito dei pazienti nel vostro servizio? Devo dire che nell'ultimo anno si sono realizzate significative e importanti migliorie strutturali e su questo c'è stata una grande attenzione e una grande sensibilità da parte della direzione aziendale che ovviamente ringrazio. Abbiamo preso dei spazi qui antistanti, due spazi che ci hanno aiutato molto nel migliorare l'accoglienza, abbiamo una sala d'attesa dedicata, abbiamo potuto distinguere un pochino meglio i percorsi prettamente sanitari da quelli amministrativi e quindi come dire la capacità di accoglienza del servizio è decisamente migliorata. C'è anche allo studio una ulteriore nuova ipotesi di miglioramento ecostrutturale per rendere più funzionali e più accoglienti le attività della dietista e del podologo che sono due ambiti di lavoro specifici all'interno del servizio di diabetologia e che appunto troveranno sicuramente giovamento da questa ulteriore miglioria strutturale su cui la direzione si sta impegnando. Indicativamente quante persone voi seguite? Noi seguiamo all'incirca 4.500 assistiti e dico all'incirca perché non sempre l'accesso degli assistiti avviene nei calendari prefissati e poi ci sono ovviamente aggiornamenti che si fanno dell'anagrafe sanitaria e quant'altro ma questi sono i numeri reali, sono numeri dell'epidemiologia del diabete che i numeri impattano per il 6,5% della popolazione e quindi questo ritorna con i numeri del nostro territorio. La domanda mi offre lo spunto per ricordare che siamo di fronte ad un'epidemia diabete si stima che il numero tenderà ulteriormente a lievitare nei prossimi anni e dai 3 milioni di diabetici che abbiamo in Italia oggi con diabete noto passeremo rapidamente intorno ai 4 milioni, 4 milioni e mezzo entro il 2020-2025 quindi si capisce l'impatto sociale, sanitario del diabete con tutti i riflessi anche negativi in termini di morbidità, mortalità e possibili complicanze e quindi anche di costi che naturalmente la malattia genera per i servizi sanitari che sono preposti appunto alla cura. Anche perché lei appunto ha parlato di queste epidemie e dei costi ma diventa difficile anche per quanto riguarda la singola persona continuare a vivere con il diabete perché ci sono sia un impatto terapeutico importante che poi anche dei risvolti quotidiani che comunque peggiorano l'esistenza di chi soffre di questa malattia? Beh sì perché come dire la persona con diabete deve sviluppare e noi aiutiamo appunto a fare in modo che questo si realizzi deve sviluppare una capacità di autogestione e di autocontrollo che significa attenzione al regime alimentare attenzione ai valori glicemici nel corso della giornata appunto con l'autocontrollo e l'automonitoraggio rispettare il tempo di somministrazione, gli orari di somministrazione appunto dell'insulina rispettare il ritmo sonno-veglia avere particolari accorgimenti in corso di attività fisica tanto più se si fa magari una terapia insulinica quindi come dire l'impatto della malattia c'è ed è un impatto importante a tutto tondo che interessa tutti gli aspetti della vita quotidiana oltre naturalmente la consapevolezza e la piena assunzione di responsabilità di dover effettuare periodicamente tutti i controlli che lo specialista richiede che sono non solo controlli diabetologici presso il servizio ma anche controlli presso gli altri servizi per il fondo dell'occhio, per la nefropatia diabetica, per i problemi vascolari andando magari dal chirurgo vascolare e quant'altro insomma quindi un bel impegno che la persona necessariamente deve fronteggiare quando viene fatta questa diagnosi Un ruolo importante per quanto riguarda il servizio di diabetologia lo hanno anche le associazioni di volontariato qual è un po' lo stato dell'arte? Ma le associazioni di volontariato sì, concordo hanno un ruolo importante hanno un ruolo direi a tratti anche determinante perché naturalmente ci aiutano a far transitare messaggi educativi messaggi di consapevolezza, messaggi appunto di adesione di aderenza al programma di cura che viene proposto sicuramente dal servizio oltre che ci aiutano a diffondere le conoscenze naturalmente della malattia con iniziative di sensibilizzazione e quant'altro il rapporto si sta rivitalizzando si sta un pochettino rinvigorendo perché sta maturando una consapevolezza proprio che in questo territorio c'è bisogno di un'associazione vera uno o più associazioni vere, insomma c'è spazio per tutti che stiano vicini ai malati, che si facciano carico delle problematiche e che, come dire, li rappresentano alle istituzioni in maniera positiva, tranquilla, serena e sinergica senza pensare di sostituirsi ai servizi ma collaborando con i servizi devo dire che nell'ultimo anno c'è stata una buona rivitalizzazione di questi rapporti e, come dire, anche con la nascita di un'associazione pazienti che, come dire, sta dimostrando, come dire, di essere vicina veramente al servizio io spero che questi rapporti possano ulteriormente consolidarsi il servizio è sempre disponibile, come dire, a collaborare con chi richiede collaborazioni Il diabete solitamente colpisce un po' gli adulti ma per coloro che sono più giovani di età che novità ci sono attualmente in campo? Ma, sì, ha detto bene, il diabete è una malattia dell'adulto prevalentemente oltre il 90-95% delle persone che soffrono di diabete sono persone adulte, quindi è la forma dell'adulto quella che naturalmente coincide e che fa ovviamente la differenza però anche il diabete del giovane è, come dire, importante non va sottovalutato, anzi, va, come dire, attenzionato anzi, forse anche, non dico, con maggiore intensità però sicuramente tenendo presente una serie di specifiche che la malattia richiede e a questo proposito, come dire, all'interno del servizio si sta sviluppando e si sta consolidando anche, come dire, la metodica che prevede l'impianto dei microinfusori ovvero è una notevole evoluzione tecnologica che prevede, appunto, la possibilità che si possano applicare, appunto, questi dispositivi che erogano in maniera automatica e continua l'insulina e questo, come dire, ha il vantaggio che la persona non deve più ricorrere a somministrazioni multiple giornalieri solitamente tre o quattro somministrazioni è una notevole, come dire, innovazione e i pazienti giovani, ovviamente, nei casi strettamente selezionati dal servizio, non è, come dire, una soluzione ovviamente per tutti ma, come dire, i pazienti giovani si possono notevolmente giovare e finalmente anche questo tipo di risposta veramente innovativa, completa e tecnologicamente molto avanzata è possibile anche presso questo servizio ovviamente l'innovazione strutturale va sostenuta e noi lo stiamo facendo anche con competenze e conoscenze e quindi anche il personale viene posto, come dire, e viene in condizioni di doversi aggiornare su questa che è un'evoluzione Dopo aver fatto il punto per quanto riguarda il servizio di diabetologia dell'Alta Valle del Tever con il responsabile, il dottor Roberto Norgiolini Adesso è il turno della dottoressa Cecilia Marino che è la responsabile del servizio di diabetologia per quanto riguarda l'Alto Chiascio Intanto, dottoressa, come si fa ad avere il primo contatto con il vostro servizio? Il primo contatto avviene tramite il medico di medicina generale che allora quindi ritenga opportuno che il paziente faccia una visita diabetologica tramite quindi prenotazione o al cupo o alla farmacia quindi entra in quel percorso che è la prima visita e quindi attuato questo primo impatto con il servizio da qui poi si procede con percorsi assistenziali ben definiti per cui una volta che il paziente è stato presso in carico è stato visto che è diabetico definito il tipo di diabete di cui affetto poi entra in quei percorsi che sono percorsi di cui si fa carico il nostro servizio che sono il de-service in cui praticamente noi facciamo dei pacchetti e in una mattina il paziente segue tutti gli esami diciamo i matici e segue il fondo dell'occhio quindi tutto quello che riguarda le complicanze della malattia diabetica quindi per l'occhio il fondo dell'occhio l'elettrocardiogramma e successivamente anche il vascolare con l'indice di Windsor e i testi per la neuropatia fatto questo visto se il paziente è complicato eventualmente il servizio si carica del fatto di fare ulteriori esami per cui se deve fare un ecocuore eccetera anche in questo caso tramite il servizio in base anche alle esigenze del paziente alle urgenze di quello che è la patologia in quel caso quindi il servizio poi fornisce anche gli appuntamenti dell'ecocuore o dell'OCT per l'occhio eccetera quindi sono dei percorsi assistenziali ben definiti un'assistenza che però continua anche dopo la prima visita perché come sappiamo coloro che soffrono di diabete hanno purtroppo uno stile di vita che da quel momento in poi verrà in qualche modo rivoluzionato certo cioè si fanno questi pacchetti sono annuali possono essere anche fatti ogni due anni in base anche qui a com'è diciamo il com'è le condizioni del paziente quindi un paziente complicato può essere visto ogni sei mesi una volta all'anno un paziente non complicato anche questi pacchetti si fanno ogni due anni dopodiché diciamo che ci sono il periodo dei controlli quindi in base alla terapia che fanno i nostri pazienti se fanno una terapia per esempio insulino dipendente verranno visti ogni tre mesi una terapia con ipoclicemizzanti orali vengono visti ogni sei mesi e questi diciamo che sono dei percorsi ben definiti anche dalle società scientifiche e quindi dalle linee guida condivise in Italia per quanto riguarda invece il servizio proprio in alto chiascio quanti sono gli assistiti? attualmente siamo intorno ai 4.700 diciamo che quindi copriamo i comuni di Gubbio e Gualdo i comuni della fascia subappenninica e in parte per problemi logistici anche tutta Valfabbrica per cui insomma ecco il numero considerato che è il 7% più o meno della prevalenza della malattia diabetica sulla popolazione quindi noi siamo intorno a 4.700 pazienti per quanto riguarda invece le associazioni di volontariato che comunque hanno un ruolo importante in questo servizio com'è lo stato dell'arte in alto chiascio? in alto chiascio diciamo che è una delle associazioni più vivaci perché contano quasi mille pazienti mille associati diabetici per cui è un'associazione molto forte si è fatta l'anno scorso una giornata mondiale della malattia diabetica proprio a Gubbio ed è stato l'inizio si è fatto un coordinamento delle associazioni dove appunto sempre quella di Gubbio è stata una fautrice in modo che tutte le associazioni dell'Umbria si identifichino all'interno di un coordinamento e quello che è molto interessante che stanno facendo le associazioni e che ripeto la nostra proprio di Gubbio sono portavoce di una legge si sta facendo la legge sulla malattia diabetica proprio che cerca che diciamo porta avanti in particolare due aspetti uno è l'aspetto legislativo nel senso che è una legge quadro poi pian piano si riempiranno i vari pezzi il primo aspetto è che i pazienti diabetici a livello lavorativo soprattutto i giovani non siano discriminati perché a tutt'oggi si vedono delle cose in cui vengono discriminati l'altro aspetto è un aspetto che diciamo essendo l'Umbria una piccola regione se vogliamo però da città di Castello a Terni si abbiano i stessi percorsi assistenziali quindi questa legge soprattutto vorrebbe tutelare questo e quindi sono anche a livello regionale l'assessore ha preso lui proprio in mano anche questa legge per portarla avanti